Nelle città che si preparano al voto stiamo lavorando per attuare e riproporre un campo largo progressista perché riteniamo che nello schema attuale, in Italia, sia fondamentale unire le forze progressiste che si ritrovano nell'europeismo nostra stella polare. Lo ha detto Francesco Boccia, responsabile nazionale enti locali del PD a Catanzaro. Ai liberali, che guardano con attenzione ai riformisti progressisti, ha aggiunto Boccia, diciamo abbiate coraggio. Le nostre porte sono aperte, l'ho fatto a Palermo lunedì sera, lo sto facendo in tutta Italia e a maggior ragione in Calabria dove il cammino è iniziato vincendo a Cosenza ma sono sicuro che vinceremo anche a Catanzaro. Oggi la presentazione del sostegno di Aldo Casalinuovo a Nicola Fiorita dà proprio questa sensazione. Il centro-sinistra si candida a governare Catanzaro con un profilo molto istituzionale come quello di Aldo Casalinuovo, movimentista come piace a me e anche di rottura come quello di Nicola Fiorita. Loro due insieme mi piacciono molto, sono il simbolo di una comunità vasta, larga, insomma il PD metterà in campo tutti come è noto, l'ho già ribadito più volte. Il responsabile Enti Locali dei Democratici ha poi criticato la scelta del sindaco di Corigliano Flavio Stasi di candidarsi a presidente della provincia di Cosenza, facendo perdere di fatto il centro-sinistra a beneficio del centro-destra. In provincia di Cosenza è successo quello che ogni tanto succede in giro per l'Italia quando i personalismi prevalgono sul bene comune. Stasi ha fatto un gravissimo errore, imperdonabile, e quando non ci si unisce, non si fa un passo indietro, si aiuta da destra. Il principale elettore della nuova presidente della provincia, alla quale faccio gli auguri e il buon lavoro, di destra è stato Stasi e questo segna una rottura insanabile con il centro-sinistra cosentino.